Per un popolo che non aveva mai conosciuto la pace, una guerra stava finendo. Benvenuti in America! E benvenuti a Ken Pendleton! E un viaggio stava iniziando. I nord vietnamiti hanno occupato Saigon. So che tutti voi siete ansiosi di riunirvi alle vostre famiglie. Signore e signori, questo è l'ultimo dei nostri arrivi per oggi. Con chi sei venuto qui? Tua madre è davvero dispersa? Posso immaginare quanto tutto questo sia difficile per lei e la sua gente. Le propongo la direzione del campo. Sparco traditore! Avrei potuto farla arrestare per quello che ha fatto. Si rende conto che ho messo a rischio la mia carriera per lei? In un nuovo paese. Una storia di amicizie. Di speranza. E una seconda possibilità. Dal regista vincitore del Sundance Film Festival con le tre stagioni. Sognavo sempre l'arrivo di un drago verde che mi aiutasse a trovare mio padre. Forse questo drago ti aiuterà a trovare tua madre. Patrick Sweezy. Forrest Witeker. Don Duong. E per la prima volta sullo schermo Trung Yen. The Dragon. E per la prima volta sullo schermo Trung Yen. Grazie.